Un'edizione come questa del 71esimo in un modo così speciale, così particolare e così complesso, farla partire con il momento in cui la persona a cui devo tanto in questi giorni perché come dicevo anche a tutta la mia squadra la speranza che ci ha dato Amadeus con questo festival di essere ancora qui dopo 14 anni deve essere ripagata con il sorriso delle maestranze, delle persone che intorno a questo progetto ci hanno sempre lavorato e creduto. Sono emozionato perché non faccio il presentatore, avere ufficialmente il conduttore del festival, il direttore artistico ad aprire questa edizione ha per me un valore aggiuntivo, un valore immenso e lo ringrazio perché oggi per noi significa aprire una settimana importante di speranza e di ripartenza come quello che faremo giorno 1 con l'inizio di questo percorso verso la normalità. Io ti ringrazio di cuore al nome di tutte le persone che lavorano intorno a questo grande progetto di Casa Sanremo e ti ringrazio veramente di averci dato l'onore della tua presenza. Grazie Vincenzo, intanto grazie l'invito. Io intanto l'ho detto tante volte anche oggi nel collegamento con Domenica Ina e sono molto legato a questa città perché ho tanti ricordi da quando ragazzo venivo a intervistare i cantanti nei Sanremo degli anni Ottanta e poi perché chi fa il mio lavoro poter pensare solo di essere a Sanremo e di avvicinarsi al festival è un sogno, un sogno che sto realizzando da due anni e che ci ha regalato l'anno scorso un qualcosa di incredibile che abbiamo vissuto tutti noi ancora oggi quando rivedo le immagini di Sanremo di un anno fa mi viene la pelle d'ho che è commovente perché mi sembra una cosa che appartiene a 6-7 anni fa e non a 12 mesi fa. Io ho voluto fortemente fare questo festival festival ma non solo per me nel senso che per me è una gioia, è un onore condurre Sanremo ma perché sarebbe stata un'ennesima ferita e già credo che questo paese in questo anno ne abbia subite fin troppo. Questa sarebbe stata una ferita che sarebbe rimasta per sempre, cioè la cancellazione di Sanremo sarebbe rimasta nella storia e io non ho assolutamente voluto che questo potesse accadere perché non deve esserci nella storia di Sanremo un anno di stop. È un sintomo di forza, di volontà, persone, uomini come Vincenzo, sono uomini che combattono, che lottano, che sono innamorati del proprio lavoro, delle persone che lavorano con lui e quindi grazie anche a queste persone che Sanremo, che il festival, che tutto quello che esce da questo luogo magico, dico sempre io, ha una cassa di risonanza pazzesca. Quindi io sono contento che ci sia il festival di Sanremo, sono contento che ci siano cinque serate di grande musica perché la cosa più importante, al di là poi dello show, del gioco, del divertimento, col mio amico Rosario Fiorello e con tutti i personaggi e con tutti gli amici che saranno a Sanremo, ma soprattutto una serata, cinque serate di musica, sono contento di poterle offrire al pubblico e la musica non si ferma mai e Sanremo non si ferma mai. E quindi ringrazio Vincenzo per l'invito a Casa Sanremo, per lui è stato uno sforzo incredibile, un anno appunto in un'edizione difficilissima, ma anche lui non si è fermato, Casa Sanremo non chiude, c'è, è viva, è bella, è bellissima, è forte e in un anno così se è forte Casa Sanremo vuol dire che negli anni che torneranno ad essere normali, ci auguriamo dal prossimo, Casa Sanremo grazie a Vincenzo e a tutte le persone che lavorano con lui tornerà a essere una delle cose più potenti di questa città. Quindi grazie a lui e grazie a tutti voi. Grazie Ama, grazie di cuore.